a vede io qui ho abitato molto a lungo e mi vengono incontro antichi ricordi come vecchi amici ben qui mi ricordo ebbene ecco posso dire solo una parola orecchi occhio a orecchi occhio e anche questi antichi ricordi e io la seguo sempre una trasmissione giovine non è vero io credo nei giovini e poi so che quest'anno cambia tutta una trasmissione nuova e ci sarà anche lei simonetta sauli è vero? ci sarà fabio fazio due nuovi conduttori si è matto lui va bene ma insomma e quando ci si vede in questa trasmissione? io direi che ci vediamo tutti i giorni da lunedì al venerdì ah benissimo verso le 6 e un quarto 18 e 15 non è vero ebbene vi aspetto antichi amici e nuovi amici e tutti ecco ebbene anche lei ci sarà si e anche tu? si anch'io forse l'orecchi occhio da lunedì al venerdì ogni giorno alle 18 e 10 su Rai3 ehi ma chi sono? siamo billy noi billy si se vuoi sei billy come noi noi che abbiamo la mania di portarci in tasca l'allegria allora prendi billy e vai precisamente billy dai naturalmente billy e poi perché non fai come noi billy falla billy falla billy falla Grazie a tutti